buongiorno ragazzi e buongiorno ragazze benvenuti nel mio canale oggi andremo a fare un video sui ordini di amazon ci sono arrivati due pacchettini ora andremo ad aprire vedremo cosa mi è arrivato allora questo è un orologio per la piscina che va dentro l'acqua ecco qui allora va prima caricato quindi non posso farvi vedere come funziona quindi va sgangiato da qui e va caricato al computer quindi magari in un prossimo video vi farò vedere come funziona ora lo rimetto qui e vi faccio vedere l'altro pacco ora andremo ad aprire l'altro pacco ora andremo a vedere come funziona questo sempre è un orologio però dovrebbe essere un orologio cellulare ovviamente sicuramente sarà scarico anche questo quindi dovrò caricare prima la batteria per farvi vedere le funzioni ecco l'accensione ma è scarica la batteria quindi farò un prossimo video per farvi vedere allora un po' funziona ancora si è carica la batteria allora è tipo cellulare però bisogna inserire la scheda quindi c'ha le funzioni tipo il cellulare c'ha facebook c'ha tutto whatsapp tutto in pratica il posto di usare il cellulare è un orologio cellulare questo è il cavetto per ricaricare questo video oggi lo concludo qui perché non riesco a trovare dove va la sim magari farò un altro video vi farò vedere anche le funzioni del mio cellulare orologio quindi per oggi vi saluto vi auguro a tutti una buona giornata e al prossimo video ciao a tutti a presto